Lui è Fire, un pitbull, un meticcio di pitbull di circa 5-6 anni, già è arrivato qui con le orecchie tagliate, è buonissimo di carattere, è compatibile con le femmine, è bravissimo con le persone, è un pitbull molto calmo di carattere ed è qua da circa due annetti. Sì, doveva essere trasferito presso un altro canile convenzionato del canile ma noi vogliamo trovare una buona famiglia per lui perché è un cane che se lo merita ed è molto bravo, è già sofferto anche tanto in canile, adesso è in una gabbia di isolamento. Come è arrivato al canile? Segnalato vagante come la maggior parte dei cani che entrano dentro il canile. Se dovessimo fare un attimino il punto della situazione sul canile municipale, da quando è iniziata la collaborazione con Tele One? Abbiamo fatto adottare un cane e gli altri due sono usciti in stallo in attesa di adozione. Attualmente quanti sono i cani ospiti al canile? Al mattatoio sono circa 150 e invece qua saranno circa 100 o 100 e qualcosa. Diciamo che gli ingressi non si stoppano e non si riducono, ora andiamo incontro all'estate quindi ci saranno tante cucciolate. Quello che noi speriamo è di cominciare una buona attività di sensibilizzazione della città perché purtroppo i cani che vengono segnalati e che poi entrano al canile sono per lo più dei cani vaganti. Di privati che ovviamente non vogliono più che sono anche senza il microchip quindi poi comunque il responsabile non viene rintracciato. Quindi bisognerebbe fare non soltanto una buona attività di microchipatura per tutta la città, noi ne vorremmo pensare di organizzare con l'ASPA e il comune una volta al mese nella città di Palermo e così trovare anche l'occasione per cominciare anche un'attività di sensibilizzazione che è molto importante perché non ci sarà mai un canile di 5.000 posti e comunque anche se c'è bisogna cercare invece di ridurre gli ingressi e ridurre gli ingressi l'unica cosa è svolgere le attività di controllo, di monitoraggio della città.